Il processo davanti ai giudici del Tribunale collegiale di Padova si è concluso con una condanna a sei anni di carcere ed una multa di 2400 euro per Vassil Rama, albanese di 38 anni, meglio conosciuto come l'autista di quell'Audi gialla con targa svizzera rubata all'aeroporto Malpensa di Milano, le cui scorribandi ad altissima velocità, inseguimenti con le forze dell'ordine compresi, seminarono il panico in mezzo a nord-est a cavallo tra il 2015 e il 2016. In questo processo Rama doveva rispondere di una rapina in provincia di Padova e due furti in provincia di Vicenza. Il 16 gennaio 2016 la banda, composta da tre persone, era penetrata in una villetta di torreglia rubando capi griffati ed una medaglia in oro, spostandosi poi ad Abano Terme dove erano stati però sorpresi dai carabinieri. La fuga era stata coperta da alcuni spari di pistola. Quattro giorni dopo il 20 gennaio doppio colpo in abitazione. A Romano Dezzelino fugono con 2700 euro in contanti e oggetti che superano i 6.000, a Casola preziosi e denaro per addirittura 250.000 euro. I due giorni seguenti furono quelli che consacrarono la banda dell'Audi Gialla, gli onori delle cronache nazionali, con l'auto prima intercettata a Prosecco e la polizia che spara dei colpi in aria, quindi l'inseguimento da 90 Padovana a Montebello e la folle corsa contro mano sul passante di Maestre che costò la vita ad una 58enne russa. Qualche giorno dopo la carcassa incendiata dell'auto fu ritrovata tra i comuni di Onedifonte ed Asolo nel Trevigiano, quando evidentemente il trio si sentiva abbraccato dalle forze dell'ordine. Vassirama era stato poi arrestato in Grecia nel settembre 2016.